Bene, direi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti, benvenuti all'appuntamento settimanale con i webinar di CREA3D. Per chi si collegasse con noi per la prima volta, io sono Angelo Paradiso, Application Engineer di CREA3D e oggi con questa diretta in cui parliamo di materiali conduttivi, antistatici, SD safe per la stampa 3D, tecnologia FFF, quindi filamento, con questa diretta continuiamo la serie di webinar sui settori industriali iniziata lo scorso anno. Di fatti sul canale YouTube di CREA3D si trova una bella playlist di webinar che pone il focus sulla stampa 3D nei vari settori industriali su cui stiamo ponendo il focus, ne trovate uno sull'automotive, uno sull'automazione industriale, uno sul settore alimentare, packaging e oggi parliamo di tutti quei filamenti utilizzabili nel settore elettrico e elettronico. Se vi siete persi comunque i precedenti eventi potete seguire questo senza particolari problemi perché trattano argomenti piuttosto a sé stanti e comunque avete poi la possibilità di rivederli in qualsiasi momento sul canale YouTube, io come al solito cercherò di rispondere live alle vostre domande, cercando comunque di non andare oltre i soliti 30 minuti di trattazione per non rendere troppo pesanti poi gli argomenti che si vanno a trattare. Parto mostrandovi questo grafico con l'obiettivo di capire come individuare direttamente in scheda tecnica le informazioni di cui necessitiamo per poter dire se un polimero è conduttivo, antistatico, SD safe o qualsiasi altra informazione si possa dedurre. E quindi niente, parto da questo grafico, solitamente immaginiamo i materiali polimerici come buoni isolanti dal punto di vista elettrico, ma questi possono essere anche modificati per offrire diverse proprietà elettriche al materiale. In alto a destra per fare un esempio, un esempio pratico, vedete il valore di resistività di volume del polipropilene. Quindi qui non si legge anche la resistività superficiale rilevata secondo la Uni 5348-2, ma ve lo indico io, che si attesta attorno ai 10 alla 13 Ohm. E quindi 10 alla 13 Ohm, che leggete qui nel grafico, ci porta a dire che sicuramente il polipropilene fa parte di quei materiali plastici non modificati, che sono solitamente dei buoni isolanti elettrici. Se invece cercassimo materiali conduttivi, dovremmo cercare su scheda tecnica dei valori di resistività superficiale che leggete sulla parte destra del grafico. Questo è il dato, la resistività elettrica superficiale, che ci conferma che la conducibilità elettrica sia adeguata a quello che noi stiamo cercando, visto che la resistenza elettrica è poi l'inverso della conducibilità e quindi data la resistenza è nota la conducibilità elettrica. In questo caso, in alto a destra, leggete non più il valore della resistività del polipropilene, ma quella del CNT, che è un materiale caricato con nanotubi di carbonio, c'è l'ETI Fabrics che a breve vedremo, vedremo anche nel dettaglio per quelle che sono le applicazioni per quale poi tutti questi materiali a cui farò riferimento di volta in volta possono essere utilizzati o comunque tutte quelle applicazioni in cui noi stessi abbiamo avuto modo di testare questi materiali con le varie richieste dei nostri clienti. Il CNT, quindi lo vedremo nel dettaglio, è proprio un polimero caricato con carbonio, apro una parentesi, tutti i materiali che contengono carbonio sono conduttori, tuttavia i diversi produttori di filamento progettano diverse gambe di prodotti per consentire ai clienti di ottenere prestazioni ottimali per quello che è la loro applicazione specifica. Mentre le applicazioni dei materiali plastici come isolanti elettrici sono così tanti che poi perde significato anche solo tentare di farne una lista, negli ultimi anni un numero crescente di ricerche ha messo in mostra la possibilità di ottenere polimeri conduttori attraverso semplici modifiche di comuni materiali, tali polimeri uniscono quelle che sono le proprietà elettriche simili a quelle dei metalli e ai vantaggi delle plastiche, leggerezza, resistenza alla corrosione e via dicendo. I materiali con una resistività superficiale compresa tra 10 alla 6 e 10 alla 9 Ohm sono tra i materiali più usati nel settore elettronica e semiconduttori perché permettono di evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e proteggere quindi dal rischio di scariche elettrostatiche quelli che sono i dispositivi. In questo modo è possibile garantire una gestione affidabile dei componenti elettronici altamente sensibili, riducendo anche quelli che possono essere danneggiamenti che si possono avere sugli stessi dispositivi che andiamo a trattare. Cosa è importante perciò conoscere per scegliere il giusto materiale? La chiave per la scelta, una volta identificato magari su scheda tecnica quello che è il range di resistività superficiale che ci interessa, la chiave per la scelta è il polimero di base utilizzato per realizzare il filamento di vostro interesse, perché spesso gli additivi non vengono utilizzati per conferire le proprietà elettriche che ci interessano, poco possono fare per intervenire sulle caratteristiche meccaniche del prodotto che andremo a realizzare stampando in 3D. Quindi solitamente gli additivi sono per i più utilizzati, sono carbon black, nanotubi di carbonio, quasi mai si utilizza il rame come materiale o altre leghe metalliche per additivare il polimero. Nella maggior parte dei casi si utilizza il carbonio. Ogni additivo comunque avrà pro e contro. Quindi visto che l'aditivo ci aiuta dal punto di vista elettrico a conferire quelle proprietà elettriche che a noi interessano, ma questo additivo raramente va a inficiare in modo positivo sul polimero di base a livello meccanico o termico, è importante scegliere il polimero di base. Quindi, primo concetto, andare a valutare direttamente su scheda tecnica il valore di resistività superficiale del polimero. Quindi questo è un dato che troviamo nelle proprietà elettriche del materiale, ogni produttore che si rispetti a questa sezione nella scheda tecnica del polimero che dobbiamo andare ad utilizzare ed acquistare. Una volta valutato questo valore, quindi se si rientra nei range di accettabilità perché il materiale sia SD safe oppure conduttivo piuttosto che antistatico, possiamo iniziare a considerare il polimero di base. Quindi qui ho comparato a livello meccanico alcuni polimeri SD safe che esistono in commercio. Tralasciando il PTG che non eccelle in nessuna di quelle caratteristiche che si ricercano in un polimero ingegneristico, poniamo il focus su ABS e SD safe di chimia, nylon carbon fiber di BASF, questo nylon carbon fiber è una poliamide base 6 additivata con carbonio in percentuali tra il 10 e il 15% e poi il TPC e SD di chimia qualora ci interessi un materiale flessibile. TPC che magari vi potrà ricordare il TPU o TPE con poliuretani termoplastici, ma a breve ci arriviamo e poniamo il focus anche su questo materiale. Quindi come primo materiale vi mostro l'ABS che sicuramente non è una novità per chi ha un minimo di esperienza con la stampa 3D a filamento, ovvero un materiale con resistenza all'abrasione, resistenza al calore, tranquillamente le parti stampati resistono a 80 gradi centigradi, sensibilità ai raggi UV con la problematica della delaminazione. Vedo che ci sono delle richieste relativamente, magari a chi è entrato un attimo in ritardo, la possibilità di rivedere l'evento al termine del webinar, nel pomeriggio comunque verrà inviato a tutti quanti il link per rivedere il video direttamente su YouTube, quindi avrete questa possibilità se vi siete persi la parte iniziale. Quindi dicevo, il primo materiale l'ABS SD, un materiale che comunque nella stragrande maggioranza dei casi soffre del problema della delaminazione, quindi un'adesione non perfetta tra i vari strati, di fatti controllando il precedente grafico leggeremo tra i difetti quello proprio dell'anisotropia accentuata in Z, che poi si manifesta col fenomeno proprio della delaminazione che se avete stampato l'ABS potreste aver verificato. Questo ABS di chimia però si stampa egregiamente rispetto alla media degli ABS e ha valori di resistività elettrica superficiale che ricade proprio in quei materiali ESD safe. Quindi riprendendo il grafico che vedevamo in precedenza, nella sezione relativa ai materiali ESD safe troveremmo la resistività elettrica superficiale di questo ABS. Altro materiale marchiato chimia con stessi valori di resistività elettrica superficiale è il TPC, che è un materiale flessibile. Sicuramente avrete sentito parlare del TPU o TPE. Il primo è un poliuretano termoplastico, il TPC in realtà è più una gomma abbastanza simile al TPU dal punto di vista meccanico e anche termico, che ci permette di proteggere non solo dal punto di vista elettrico i dispositivi, ma anche in termini meccanici e di resistenza agli urti delle parti elettroniche. Se vi occorrono invece materiali rigidi, oltre all'ABS, il PHTCF, ovvero il nylon caricato carbonio di BASF, anche se non lasceva per questo tipo di necessità, è un materiale ESD safe, quindi BASF lo ha scoperto a distanza di sei mesi dal lancio in commercio, perché non nasceva per quelle che erano le necessità di realizzare un materiale SD safe, visto che c'era il PCTG, che era una versione modificata del più comune PETG, ora è uscito fuori commercio il PCTG e perciò BASF ha puntato tutto sul materiale nylon carbon, quindi un materiale che a livello di poliammide ha una poliammide base C, quindi a differenza di altre poliammidi, la poliammide C è molto igroscopica, quindi assorbe molta umidità, perciò prima di stampare è indispensabile effettuare un trattamento termico di essiccamento, l'essiccamento delle poliammidi avviene a circa 70 gradi, quindi si utilizza un semplice fornetto elettrico, un forno elettrico non un forno a gas, con questo forno elettrico possiamo andare a fare un essiccamento a 70 gradi, come effettuare l'essiccamento? Allora, visto che non stiamo parlando di ricotture, annealing, nelle ricotture, nell'annealing dei materiali in cui si arriva a 200 gradi per migliorare le caratteristiche meccaniche del polimero che è stato stampato, lì magari più che la sabbia da fonderia, quindi più che immergere il pezzo in sabbia e poi nel forno, visto che si raggiungono i 200 gradi, io consiglio di utilizzare il gesso, quindi proprio il gesso che utilizzate anche per chiudere il buco nel muro, quello stesso il gesso, fatto solidificare, ovviamente dopo aver immerso il pezzo all'interno, quindi polvere di gesso e acqua, immergo il pezzo all'interno, faccio l'annealing, per i trattamenti di essiccamento non è necessario questo tipo di accorgimenti, quindi visto che me lo chiedono spesso per l'essiccamento, se devo essiccare una bobina di materiale, posiziono la bobina del materiale all'interno del forno, stando sempre attento che quella bobina, quindi l'involucro che contiene il filamento, sia predisposto a quelle temperature, può apparire scontato, ma non è detto che il produttore del materiale, che magari va essiccato a 140 gradi, immagino il PPS o il PPSU a 150 gradi, non è detto che quel produttore fornisca un involucro, quindi una bobina, uno spool di materiale che effettivamente poi resiste alla temperatura di essiccamento, per i nylon non ci sono problemi, posiziono il nylon all'interno del forno, la bobina, il filamento, 70 gradi per un tempo che va dalle 4 alle 10 ore, chiaramente dopo le 4 ore la percentuale di umidità all'interno del filo scende sotto l'1%, in realtà non è ancora ottimale quella condizione, bisogna far sì che la percentuale di umidità scenda sotto lo 0,4% e per farlo le 8 ore sono indispensabili, quindi quello che faccio io spesso, se la mattina seguente devo utilizzare un materiale caricato carbonio, soprattutto una poliammide e soprattutto una poliammide base 6, che a differenza della poliammide 12 assorbe meno umidità, in serata posiziono la mia bobina nel forno a 70 gradi, un forno anche a convenzione naturale, non è indispensabile che il forno sia sotto vuoto, che abbia la possibilità di sfruttare il vuoto e una volta fatto questo, la mattina seguente ho la mia bobina essiccata e pronta a lusso, questo mi permetterà oltre ad un'esperienza di stampa molto più agevole nell'utilizzo delle poliammidi, ha anche la possibilità di avere una bassissima porosità nel materiale stampato. Scusate. È difficile prevedere che comunque i polimeri in futuro possano sostituire conduttori e semiconduttori classici, ma infatti potremo emulare alcune caratteristiche dei metalli, la conduttività offerta dal legame metallico è superabile solo con sistemi che sfruttano quei fenomeni esotici come il tunneling o comunque condizioni termodinamiche molto severe, indubbio però il contributo che già hanno dato alle nuove tecnologie, che hanno poi aperto a campi più svariati come quelli che vedremo a brevissimo nella sensoristica, comunque lo studio di molti di questi materiali visti oggi potrà essere poi propedeutico per nuovi sviluppi in termini applicativi. Io vi mostro quelli che abbiamo sviluppato in questo periodo in termini di applicazione, quindi sicuramente la sostanza più utilizzata, come dicevamo prima, per additivare i polimeri sono i nanotubi di carbonio, che di per sé, quindi il nanotubo di carbonio di per sé può trasportare correnti mille volte superiori ai cavi di rame senza fondere. Però stiamo parlando di un materiale utilizzato in piccola percentuale come rinforzo in una matrice polimerica. Sicuramente i nanotubi sono più resistenti delle tradizionali fibre di carbonio, senza annoiarvi poi con la chimica, vi mostro perciò il materiale CNT Fabrics, ideale per applicazioni che richiedono magari circuiti a bassa tensione o quando vi sia la necessità di interagire con il touchscreen o utilizzabile come materiale anche quando è richiesta una resistenza di un Kilo Ohm, essendo caricato poi con quella bassa percentuale di nanotubi di carbonio ed è perciò anche utilizzabile per effettuare collegamenti con Arduino. Per chi utilizzasse Arduino è possibile effettuare dei collegamenti da questo punto di vista. Quando però ha più senso utilizzare questi materiali? Soprattutto per processi di cromatura o metallizzazione. Non per forza bagno in cromo, solitamente viene utilizzato un bagno in cromo, rame e nickel, quindi viene immersa la parte polimerica stampata in 3D in un bagno galvanico per far sì che si vada poi a ricoprire la parte stampata con un sottile strato metallico. Quando ha senso questo? Nel settore sanitario in cui magari i layer o comunque quello che può essere la certificazione del materiale polimerico non ci permette di essere installato su un'apparecchiatura elettromedicale, capita spesso di effettuare un bagno galvanico. Nel settore automotive quando il componente non è strutturale, non essendo strutturale, posso stamparlo in un materiale plastico facendo metal replacement rispetto all'alluminio e quindi così facendo io posso andare a ottenere una finitura metallizzata su un oggetto plastico. Questo processo è possibile esclusivamente se il materiale è conduttivo, se il polimero è conduttivo, quindi non siamo più nel campo SD safe, siamo in quello delle plastiche modificate per renderle conduttive, quindi si scende molto nella scala dei valori di resistività elettrica superficiale e perciò è possibile effettuare questo tipo di applicazioni. Un altro caso di studio, lo vedete qui, è quello di Impulse Modena Racing che è il team di Moto Student Electric dell'Università di Modena e Reggio Emilia che usa parti non strutturali, quindi parliamo di parti non strutturali perché comunque è un componente plastico che come matrice di base potrebbe essere anche semplice PLA, quindi per risparmiare il più possibile e per rendere il materiale il più facile possibile da stampare ho una matrice polimerica PLA. In nanotubi di carbonio come additivo, come rinforzo, non rinforzo meccanico ma dal punto di vista di quelle che sono le proprietà elettriche, ho perciò questo materiale polimerico che mi permette di realizzare questo componente che vedete qui nello sterzo, ma ce ne sono molti altri di componenti realizzati su questa moto, proprio per passare da quello che era l'alluminio, non essendo un componente strutturale l'alluminio non era indispensabile, però si voleva cercare di avere una finitura estetica quanto più possibile vicina a quella dell'alluminio perché veniva valutata anche la moto dal punto di vista del risparmio in termini di peso durante la competizione, questo quindi vale non solo per il settore automotive ma anche magari per il settore navale o dei trasporti in generale in cui c'è quella necessità di alleggerire le componenti, mi viene in mente un'applicazione sviluppata proprio la scorsa settimana con un'azienda che realizza yacht in Italia in cui c'era la necessità di realizzare delle maniglie, quindi delle maniglie per portelli o portelloni sempre stampate in un materiale plastico e poi rivestite con bagno galvanico, quindi niente più semplice di una maniglia da stampare, niente più semplice che realizzarla con un materiale polimerico e poi effettuare un bagno galvanico. La divisione di CREA3D FastParts realizza questo tipo di trattamento su parti stampate e la cronatura non è poi l'unico trattamento che viene offerto dal service, quindi vi invito a visitare il sito fastparts.it per verificare quelle che sono le finiture e i trattamenti termici, trattamenti termochimici che si possono realizzare. In realtà nella sezione trattamenti, per essere un po' più precisi, si parla piuttosto di quei trattamenti di annealing, quindi di ricottura delle plastiche per migliorarne le caratteristiche meccaniche, termiche, dei trattamenti di debending e sinterizzazione che si possono avere sui metalli, per approfondire l'argomento sia sui trattamenti, sia sulla stampa di metalli e quindi sui successivi trattamenti di debending e sinterizzazione, vi invito sempre a visitare o la pagina academy di CREA3D.com oppure direttamente sul canale YouTube di CREA3D trovate una playlist infinita di questo tipo di attività, di questo tipo di trattamenti che si possono realizzare sui polimeri e sui metalli e anche dei webinar approfonditi su quello che è la stampa dei filamenti metallici. Finiture, invece la sezione finiture di FastParts, riguarda solamente i trattamenti superficiali sulle parti. Per approfondire l'argomento finiture, vi invito invece ad andare o sul canale YouTube di FastParts o sulla sezione Academy, una pagina web Academy, sempre del sito di FastParts.it. Qui potrete approfondire l'argomento finiture, esposto dall'ingegner Mario De Astris, che è il responsabile di FastParts. Altre possibilità di utilizzo di questi materiali conduttivi riguarda la sensoristica, ad esempio sensori di forza. Il particolare tipo di sensore di forza è l'essensimetro, che nella realtà applicativa può avere differenti dimensioni e forme. Vedete qui una serpentina e un materiale di contorno. Ora cerchiamo di spiegare cos'è questo sensore di forza, di deformazione. A tal proposito vi mostro uno studio fatto in collaborazione col Politecnico di Bari nel 2019. Lo studio era finalizzato partendo da una richiesta di un'azienda che aveva una particolare necessità. Questo studio era finalizzato a realizzare estensimetri stampati in 3D con materiale plastico flessibile isolante e materiale plastico conduttivo. Qui entra in gioco il concetto di poter accoppiare due materiali tecnici. Due materiali tecnici stampati contemporaneamente e quindi questo ci porta a scegliere una stampante a doppio estrusore, come ad esempio la Rice Pro 2 Plus utilizzata per la stampa di questi materiali. Perché la Rice Pro 2 Plus? Allora, di per sé le stampanti a doppio estrusore in commercio sono parecchie. La scelta è ricaduta sulla Rice Pro 2 o Pro 2 Plus che sia, che poi tra la Pro 2 e la Pro 2 Plus cambia soltanto l'altezza in Z che viene raddoppiata nella Pro 2 Plus, mentre la Pro 2 è 300x300x300mm di volume di stampa. Dicevo, la Rice Pro 2 in entrambe le versioni ha un'estrusione di tipo diretta. Questo vuol dire un motore spingifilo posizionato direttamente sulla testa di stampa. Lo vedete in questa zona, magari da qui non si riesce a visualizzare il motore, comunque nella parte alta del blocco estrusore che è abbastanza grande, quindi delle inerzie in gioco abbastanza importanti, difatti la meccanica poi della stampante ci permette di spostare o comunque di resistere a quelle che sono le inerzie in gioco nei movimenti. La testa ha due estrusori e quindi due motori spingifilo. Questa brevissima distanza tra l'hotend, quindi la parte calda dell'estrusore e il motore ci permette di stampare materiali molto flessibili. Si riesce addirittura a scendere a 65-60A di durezza shore, quindi delle possibilità in termini di flessibilità del materiale da stampare ineguagliabili da altre stampanti a filamento, ineguagliabili da qualsiasi altra stampante a filamento, se proprio vogliamo dirlo. Questi essensimetri, questi sensori di forza, sono stati realizzati quindi in questo doppio materiale, materiale flessibile che non è altro che un TPU, in realtà sono stati stampati oltre 200 provini. I TPU utilizzati sono stati TPU 95A, 92A, 85A, 80A e poi 60A e l'estensimetro, giusto per capirci, è un sensore di deformazione la cui deformazione della parte conduttiva si traduce in variazione di resistenza, quindi io leggendo questa variazione di resistenza so di quanto si è deformato il mio estensimetro. Torno anche indietro un attimo alla precedente slide per mostrarvi l'esempio della mano, questa è una mano in cui sono stati posizionati tutti questi estensimetri per permetterci di rilevare esattamente la corretta deformazione avvenuta tramite quella lettura della differenza di potenziale, perché all'interno di questo materiale che vedete è il CNT Fabrics, cioè un materiale conduttivo che si è collegato ai due estremi, i due estremi in questo caso a differenza della serpentina che vedete in alto, nei sensori in basso i due estremi si trovano tutti e due dallo stesso lato, riesco a leggere la differenza di potenziale durante la deformazione, riesco perciò a capire di quanto si è deformato, capite perciò che leggendo questo tipo di valori iniziano a nascere possibilità di utilizzo delle tecnologie in quello che è il settore della robotica, della riabilitazione fisioterapica e via dicendo, quindi dal punto di vista della robotica o comunque dell'automazione industriale fa tanto la possibilità di stampare materiali flessibili con materiali conduttivi, di per sé il CNT Fabrics non è troppo flessibile, ha una leggera flessibilità perché comunque è a base polimerica PLA, però esistono anche dei TPU conduttivi come il CNT Fabrics e che permettono appunto poi di essere utilizzati in sensori sempre più flessibili con la possibilità di avere angoli anche di piegatura di 180 gradi. Detto questo io vi lascio magari la possibilità se ce ne sono di porre domande su quanto trattato oggi e vi anticipo già che dal 23 al 25 novembre saremo alla FIRA Max Pay di Bologna con tutte le attrezzature di cui parliamo in questi eventi, in questi webinar, quindi avrete la possibilità di vedere fisicamente sia le parti stampate, quelle che abbiamo visto oggi ma non solo, sia le macchine che utilizziamo per stampare questi materiali. Quindi lascio qualche istante per eventualmente porre delle domande, avete la possibilità di utilizzare la vostra chat, se non ci sono domande io concluderei qui la trattazione, vi ringrazio per aver partecipato, vi ricordo che oltre a ricevere il link tramite email per il video, per rivedere la registrazione su YouTube, avrete anche la possibilità di andare direttamente sul canale di YouTube e rivedere le vecchie playlist. Se non ci sono domande io vi ringrazio per aver partecipato a questo ultimo evento della settimana, vi do appuntamento alla prossima settimana con un evento di FastParts relativo alle Print Farm, quindi FastParts vi mostrerà come vengono utilizzate le Print Farm, quindi una serie di stampanti per utilizzare al meglio quello che è il service di stampa che effettua FastParts per gestire il service di stampa che fa FastParts e poi la settimana successiva si parlerà di stampa di grande formato, avremo due ospiti, ospiti di Fabrix, stampante di riferimento sul grande formato la Fabrix Elemento V2 e quindi avremo la possibilità di approfondire nel dettaglio le differenze tra la stampa sul piccolo medio formato che comunemente utilizziamo e la stampa sul grande formato a raggiungere fino a un metro per un metro per un metro di volumi di stampa. Vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime settimane, potete restare aggiornati semplicemente attraverso i nostri canali social oppure dalla pagina crea3d.com nella sezione Academy. Grazie e buon proseguimento di giornata.